La Renault Captur è stata considerata e presentata dal marchio francese come una Urban Crossover un'auto quindi trasversale a tutti gli effetti sia per design che per abitabilità accomuna anche le caratteristiche di un SUV ma di una monovolume e nello stesso tempo anche di una berlina e voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra, la redazione intanto l'ha provata per voi e sicuramente ha una propria opinione andiamo a scoprirla insieme Per la prova della settimana Renault Captur, un grosso successo commerciale da parte della casa francese per questa che potremmo definire la sorella vitaminizzata della Clio dalla quale deriva pianale leggermente più lungo, sono 6 cm in più ma 6 cm in altezza direi che questo è l'aspetto importante dell'auto che ha anche dei parafanghi leggermente muscolosi dei codolini in plastica per questo aspetto un po' da sport utili pur mantenendo, dicevo, la trazione anteriore e 5 posti comodi e una capacità di carico che pensate può sfiorare i 1400 litri L'allestimento della nostra Captur è Intensive R-Link Intensive, già lo dice il nome, ha qualcosa in più a partire dagli accessori, dal tetto bicolore è veramente molto ampia, la scelta cromatica di carrozzeria e parti esterne come gli stessi specchi retrovisori ruote del 17 pollici, molta attenzione all'infotainment interno con un grosso display centrale dove vengono racchiuse un po' tutte le funzioni sia di intrattenimento, radio ma anche navigatore satellitare e tutto il menu di bordo e poi la meccanica, estremamente interessante, il solito 1500 diesel, un turbodiesel che ha fatto ormai storie in questo segmento siamo arrivati a 110 cavalli che permettono a questa vettura di sfiorare i 180 km all'ora Renault dichiara 27 km di litro, mi sembra forse un po' troppi ma vi assicuro che anche andando un po' pesante con l'acceleratore si possono percorrere 17 o 18 km di litro Alla guida di Renault Captur si rimane sicuramente soddisfatti dell'aspetto generale intendo buone plastiche, un volante rivestito in pelle, sedili confortevoli tanto spazio anche per chi siede dietro, direi una 5 posti confortevole, una buona capacità di carico posizione di guida leggermente rialzata, visibilità ottima e poi sotto il copano questo diesel sempre pronto alla risposta dell'acceleratore un buon cambio a 6 marce, ben rapportato il tutto permette di avere dei consumi nella guida media attorno ai 17-18 km di litro reali direi che questo è un gran risultato per una vettura che sfiora i 190 km all'ora dunque prestazioni di riferimento dunque una vettura da famiglia che ci permette di affrontare lunghi viaggi nel massimo conforte direi che aspetti negativi su quest'auto non ne ho sicuramente trovati in conclusione Renault Captur è una vettura estremamente interessante con un prezzo buono, buono specialmente in rapporto alla ricca dotazione di accessori questa versione che vedete costa poco più di 21.000 euro si può anche risparmiare con dei motori meno prestazionali però direi che con 110 cavalli si può correre e nello stesso tempo percorrere tanti chilometri con consumi contenuti dunque lo dicono i numeri e non lo dico io Renault Captur è estremamente richiesta sul mercato perché piace, piace al pubblico composto da giovani e da famiglia